Pietro Sicignano, difensore centrale, è un nuovo giocatore del Brindisi. Dopo il colpaccio in mezzo al campo con l'arrivo di Raffaele Di Martino, il Brindisi rafforza anche la difesa con l'ex Cosenza, un giocatore sicignano che Ciullo conosce bene per averlo già allenato nel 2010 a Melfi. Lo scorso anno il difensore salernitano ha vinto i playoff con il Cosenza. Prima del suo arrivo in riva l'Adriatico, Sicignano è stato tra i giocatori più richiesti e corteggiati di tutta la Serie D. Con il Cosenza, Sicignano ha collezionato 27 presenze. Nel suo curriculum ci sono oltre al Melfi, con in panchina Mister Ciullo appunto, anche Carrarese e Paganese. Nel suo passato calcistico, l'ex difensore cosentino non ha mai militato in una squadra pugliese. Il difensore di Scafati è un elemento solido di sicuro affidamento, una vera e propria roccia in mezzo alla difesa e la sua stazza a 1,85 per 70 kg gli permette di farsi valere anche in fase offensiva, soprattutto con i calci piazzati. E con molta probabilità Ciullo gli affiderà il posto da titolare. Sicignano, che arriva a Brindisi già con una buona preparazione, potrebbe essere in campo già domenica prossima con il Monopoli. Per il test di Coppa Italia, il tecnico Biancoazzurro dovrà fare a meno infatti proprio di un difensore centrale, batti squalificato, ma non sarà l'unica assenza. Sempre per reparto retrato, Ciullo non potrà contare neppure sulla presenza di Iaboni, anche lui stoppato dal giudice sportivo. Il parco under del Brindisi intanto si arricchisce anche della presenza di un altro estremo difensore, classe 95, Nello De Filippo, proveniente dalla Nocerina con la formula del prestito. E intanto i dirigenti adriatici sono anche in trattativa per portare a Brindisi un altro centrocampista under, classe 94, Diopo Iusman, proveniente dal Martina. E con le nuove due pedine di grande spessore e qualche altro under che sta arrivando in queste ore, il cerchio attorno alla rosa a disposizione di Ciullo è praticamente chiuso. Sulla carta il gruppo Biancoazzurro è una delle squadre meglio allestite del girone, anche se con un budget nettamente inferiore alle pretendenti al salto di categoria Vedi, Matera o Taranto.